Perché è un libro oggi sulla divinazione? Ho cercato di scrivere il libro che avrei voluto leggere, ma che non sono riuscito a trovare. Il mondo delle premonizioni ci è vicino tutti i giorni. Pensiamo qualcosa, vediamo qualcosa, lo vediamo in sogno, lo vediamo in un flash durante la veglia. E poi questo qualcosa accade veramente. Altre volte presentiamo invece scene che non succederanno, abbiamo delle false premonizioni, ma mi interessavano quelle vere, quelle che poi si attraversano veramente nella vita. Perché? Da dove vengono? Possono rivelarci qualcosa della nostra storia, della nostra anima, del nostro essere uomini? Grazie a tutti.